Lascia un like, iscriviti, e attiva la campanella, per rimanere aggiornato. Alessandro Basciano è stato intervistato da Silvia Toffanina Verissimo per difendersi dalle accuse dell'ormai ex fidanzata Sofiko Degoni, che l'ha accusato di tradimento. L'ex protagonista del grande fratello Vip ha negato fermamente di aver avuto una tresca con un'altra donna durante un recente viaggio a Ibiza. Ci siamo entrambi mentiti tanto nell'ultimo periodo. Ci siamo detti tante bugie ma io ci sto male. La amo ancora. Sono follemente innamorato di lei. Ho perso 9 chili e mi manca la bambina che non mi fa vedere più. Io non l'ho tradita e con quella ragazza a Ibiza non c'è stato nulla. Stando al racconto di Basciano, il ragazzo sarebbe stato incastrato da una donna che aveva frequentato qualche volta prima di conoscere Sofiko Degoni si sarebbe allontanata da lui perché plagiata da terze persone. Il DJ ha puntato il dito contro Valeria Pasciuti, la madre della Codegoni, con la quale non ha mai avuto un rapporto facile. Sofiko è plagiata da terze persone che hanno fatto di tutto per farci lasciare. Quando c'è una cartomante amica della madre che esulta della rottura o stregoni, capisci che c'è stata una manipolazione. Abbiamo avuto solo persone che ci hanno incentivato a lasciarci. Ci sono terze persone che tifano per la fine di questo amore. Nel bel mezzo dell'intervista a Verissimo Alessandro Basciano è scoppiato a piangere perché è ancora molto innamorato di Sofiko Degoni. Sono depresso, non dormo la notte. Non riesco ad andare avanti, per me sono vita, mi manca lei e la mia bimba, non sono più io. Mi lasciassi almeno vedere la mia bimba.